Eccoci in diretta dalla sala stampa della vita di Cambiarina Paramangano, a commentare sponda a giallo blu la partita di questa sera tra Gerola Scafari e Banco di Sardegna Sassari anziché il coach Bolicionvi e il nostro direttore generale Giuliano, a cui lascio la parola. Buonasera, io sono qua solo per dire quelle che sono le preferite parole del Presidente Lombardi e scusarsi per quella che doveva essere una festa questa sera, invece non è stata una festa perché le squadre stavano, non hanno dato quello che si pensava potessero dare in quest'ultima partita con Sardegna Sassari. Sappiamo che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo però volevamo intanto superare quei 24 punti che la squadra aveva fatto l'anno scorso, però ripeto, non parlo di parte, di parte tecnica perché non ti contente, ero solo qua per dire che ci dispiace di aver offerto questo spettacolo, l'ultima partita che la gente possa vedere la squadra di quest'anno quasi. Tutto buono. domande? Caso di Israele Sport 24. Buonasera, direttore, il campionato si chiude domenica prossima a Napoli, una partita che diffusi sicuramente il Presidente ci tenerebbe ad onorare. Come c'era questa squadra con una stoffita così docente? Tu abbiamo visto di poter ripassare da esattizioni a dati iniziali, poi a una frustrazione perché evidentemente vogliono partire in dubbio appunto il Presidente della società. sarei stupido parlarti adesso di quella che sarà la partita di domenica. In questo momento posso solo dirti che, ripeto, ci sfugiamo della partita che abbiamo fatto, non pensiamo adesso domenica sera la partita contro Napoli, ma pensiamo a rimettere insieme quello che abbiamo fatto fino a quest'anno. Grazie. Altre domande? Grazie. Grazie.